Sono così contenta perché anche dopo l'infortunio, che era il 15, non so, 15 pari, non avevo più tanta fiducia. Però grazie al mio coach, grazie a tutti, grazie alle persone che sono con me, ce l'ho fatta a vincere anche questa. E domani i due finali sono contentissima perché sono ancora molto giovane e allora non pensavo di farcela così. Ho giocato molto bene ma avevo anche tanta paura e ero nervosissima, ma era una bellissima partita, mi sono divertita un sacco e ho recuperato e sono molto contenta.